Io credo molto nelle potenzialità della nostra regione, credo molto nelle risorse della nostra regione e l'agricoltura è la risorsa principale. Ho conosciuto il mondo agricolo in questi quasi due anni nei quali sono stato assessore e ho trovato tantissima ricchezza, ma ricchezza nel senso di capacità che vengono offerte ad un mondo, quello dell'alimentazione, nel quale l'agricoltura calabrese deve giustamente trovare ancora di più spazio. Ci sono prodotti di qualità, sia i prodotti agricoli sia i prodotti agroalimentari, bisogna crederci tanto e bisogna lavorare moltissimo sulla promozione e sulla cooperazione. Noi riteniamo che i servizi vadano avvicinati alla gente e non vadano allontanati. Abbiamo avuto qualche difficoltà sull'allocazione dei dipendenti del Dipartimento Agricoltura, c'è questa azione di salvataggio che viene anche da parte della provincia, per cui gli uffici saranno allocati qui fisicamente all'interno della provincia di Crotone, il che significa tenere sempre vicine le istituzioni, i servizi ai cittadini, il che non guasta in un momento in cui c'è tanta sfiducia.